Bene, ben trovati a tutti, buonasera. Altri stanno entrando ancora in questo momento e ci diamo proprio il benvenuto a tutti quanti, a chi è a casa, a chi invece si è ritrovato un po' in presenza per partecipare questa sera a questo incontro che ci introduce alla festa di Don Bosco. Nelle nostre case in questi giorni si è già iniziato un po' a festeggiare Don Bosco perché abbiamo dovuto diluire la festa in più giorni per poter dare la possibilità a tutti di partecipare negli oratori, nelle scuole, insomma in tutte le varie espressioni del carisma salesiano presente nel Triveneto. Ecco come MGS ci siamo preparati anche noi in questo mese grazie così al contributo di alcuni nostri amici che hanno prestato il volto e la voce ogni settimana attraverso un sogno e poi attraverso l'ascolto per chi lo ha fatto ecco degli audiolibro sul libro Don Bosco che ride e questa sera vogliamo proprio introdurci con un momento un po' più formativo da condividere insieme e abbiamo chiesto al nostro ispettore Don Izzino di aiutarci ad entrare nel cuore di Don Bosco e lui ci aiuterà grazie ad alcune lettere che Don Bosco ha scritto ai suoi ragazzi. Allora vogliamo iniziare questo momento anche perché dobbiamo stare un po' nei tempi affidandoci proprio al Signore e entrando dentro così anche in clima eh di di preghiera ecco per vivere bene questa serata poi casomai dopo verso la fine anche quando sono entrati anche gli ultimi che stanno arrivando ci diamo il tempo anche per salutarci un po' per fare un po' di festa per quello che è possibile attraverso iniziamo allora con la preghiera. Allora iniziamo con la preghiera che vedrete proiettata eh è una preghiera fatta anche di immagini a un certo punto compariranno delle immagini delle foto vere di Don Bosco e l'invito che ci facciamo è a lasciarci guardare dal suo sguardo da quello che lui ci ha regalato e ci vuole regalare e lasciarci un po' a provocare da queste immagini. Il resto lo possiamo seguire dalla traccia che troviamo. Allora iniziamo insieme questo momento nel nome del Padre, del Figlio Don Bosco Amico cuore a cuore con Don Bosco Don Bosco Amico cuore a cuore con Don Bosco Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi Fratelli, rallegratevi nel Signore sempre. Ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Ciò che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me è quello che dovete fare. Il Dio della pace sarà con voi. Don Bosco padre Ci lasciamo interpellare da questa immagine Chissà se ci rispecchiamo in qualcuno di questi ragazzetti in Don Bosco, in qualcuno dei salesiani Gesù vive e ti vuole vivo. Cristo vive. Egli è il Dio della pace. È la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò le prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane cristiano sono Lui vive e ti vuole vivo. Don Bosco maestro, da questo sguardo curvo che entra nel nostro cuore, ci lasciamo interrogare. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gli ultimi giorni della sua vita ce lo ripeteva ancora dicendo, salvate le anime, salvate le anime, adesso tocca a voi, io non posso più fare niente. Oh, quante anime salverà Maria Ausidiatrice per mezzo dei Salesiani. Grazie. Grazie per le persone che abbiamo vicino e se non sappiamo cosa chiedergli gli chiediamo che ci regali lui stesso quello di cui abbiamo bisogno. Grazie. 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 per affidare al Padre tutto quello che passa nel nostro cuore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Maria aiuto dei cristiani, prega per noi. San Giovanni Bosco, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amo. E passiamo adesso la parola ad Onigino per il nostro momento formativo. Bene, buonasera a tutti. Mi sentite? Sì, fate un segno così. Benissimo, ok. Bene, bentornati. Vedo che siamo davvero in tanti. Sono emozionato, ma lo dico davvero, perché vedo oltre 250 contatti, quindi immagino che siamo davvero tanti, perché poi vari di voi sono anche in gruppo. Incominciamo subito. Seguirò i fogli che ho preparato. Se qualcuno ancora non li ha, li trovate sul sito Don Bosco Land. Nell'articolo in cui viene presentata questa serata c'è un file che si può scaricare. Allora, ho pensato questo quando mi hanno chiesto di parlare un po' di Don Bosco. Che cosa dico? Tutti sanno già tutto, tantissime cose. E allora ho pensato di cercare qualcosa di un po' meno conosciuto, diciamo così. E mi è venuto in mente che ci sono delle lettere che Don Bosco ha scritto ai giovani che non sono di fatto molto conosciute. Noi conosciamo tanti fatti di Don Bosco, conosciamo le lettere classiche sue, conosciamo le lettere dell'84, ma non conosciamo alcune letterine anche semplici che Don Bosco ha scritto ad alcuni giovani. Ecco, ho fatto questa scelta. Lettere scritte ad alcuni giovani. Per cui dico subito questo, che vi invito a sentire queste lettere rivolte a voi, a noi. Questa sera Don Bosco sta scrivendo a tutti noi. Quindi cogliete da queste lettere quello che Don Bosco vuole dirci. Seconda cosa, come attenzione da avere, le lettere sono proprio scritte da Don Bosco, quindi il linguaggio è quello dell'Ottocento, va bene? Quindi alcune espressioni che ci sono magari non sono così normali, sono un pochino desuete, ma appartengono al linguaggio di quel tempo. Ho detto questo, io comincio, seguo il foglio, non so se riusciremo a fare tutto verso comunque le nove e mezza al massimo, dobbiamo chiudere, così mi ha detto Don Massimo. In tutto sono venti lettere, leggo l'introduzione. Leggiamo insieme alcune lettere che Don Bosco ha scritto ai giovani. Ne ha scritte molte, ne ha scritte tante, ci sono dei volumi interi, degli epistolari interi di lettere di Don Bosco. Ci coglie dalle parole di Don Bosco tutto l'affetto che nutriva per i giovani che la provvidenza gli metteva innanzi. In queste lettere, talvolta molto brevi anche, non immaginiamo chi sa quale è trattato, a volte sono delle letterine molto brevi, emergono indirizzi spirituali, consigli preziosi, piccoli programmi di vita, dai quali spicca la sapienza e l'esperienza di un formatore d'anime concreto e capace di appassionare Gesù. Ho fatto un ulteriore sforzo e ho cercato delle assonanze tra le lettere di Don Bosco e l'ultima lettera, l'ultima grande lettera che il Papa ha scritto a tutti i giovani, la Christus Vivit. Per cui all'inizio di ogni tema introduco con un piccolo, con qualche riga della Christus Vivit, ma per far cogliere che ci sono delle assonanze anche molto interessanti. Ecco, ho fatto questo sforzo un po' di cercare anche delle parole che ritornano sia nella Christus Vivit, sia in quello che il Papa Francesco dice. Partiamo con le prime due lettere. Ogni lettera io la leggo, alcune non le leggerò per intero, ogni lettera, quasi ogni lettera, un piccolo commento, ma vorrei innanzitutto che ascoltassimo Don Bosco. Questa prima parte l'ho intitolata Compaterno Affetto, un'espressione che Don Bosco usa, chiudendo e terminando la seconda lettera che leggeremo. Don Bosco termina dicendo, intanto che ti sono compaterno affetto. Bellissima questa espressione. È l'affetto di un padre. Don Bosco scrive e si rivolge ai giovani con l'affetto di un padre, compaterno affetto. Molto, molto bello. Ma comincio dalla Christus Vivit. Sentite il Papa cosa scrive ai giovani. Anzitutto voglio dire ad ognuno la prima verità. Dio ti ama. Non dubitarne mai. Ecco, vi auguro di non dubitare mai dell'amore delle persone che amate, di non dubitare mai dell'amore di Dio. E non dubitare mai qualunque cosa ti accada nella vita. In qualunque circostanza sei infinitamente amato. Forse, dice il Papa, l'esperienza di paternità o maternità che hai vissuto non è stata la migliore. A volte è così. Io ne sto facendo esperienza anche in questo periodo. A volte magari qualcuno vive una paternità, una maternità che non è poi il massimo. Però il Signore si fa vicino al limite attraverso un altro padre, un'altra madre, attraverso altre persone. Però quello che posso dirti con certezza è che puoi gettarti in tutta sicurezza nelle braccia del Padre Divino. Così scrive Papa Francesco. Ascoltiamo cosa dice Don Bosco. Lettera 1. A Ruffino Domenico, era un ragazzo, scrive nel 1956, Don Bosco ancora molto giovane. Scrive così. Carissimo figlio. Già l'introduzione è bellissima. Figlio. Lo chiama figlio. Non lo chiama neanche per nome. Lo chiama figlio. Se lo chiama figlio vuol dire che Don Bosco si ritiene un padre. E questo è molto bello. Carissimo figlio, hai fatto bene a scrivermi. Questa espressione dice che c'era un rapporto epistolare tra lui e questo Domenico Ruffino. Se dici con le parole quello che hai in cuore, avrai in me un amico. La parola amico ricorre spesso nelle lettere di Don Bosco. Don Bosco si concepisce come un amico. Prima ancora che un prete, che un educatore, che un amico. E ci ritorneremo su questa espressione poi dopo. Avrai mai un amico che ti farà tutto il bene che ti porta, che potrà. Offri i tuoi lavori a Dio. Sì, di voto di Maria, venendo a Torino ci parleremo. Il Signore ti benedica, prega per me, che ti sono di cuore, sacerdote Giovanni Bosco. Lettera semplice, piccola, breve, ma molto preziosa. C'è una cosa interessante che Don Bosco dice prega per me. Quasi in ogni lettera Don Bosco termina la lettera dicendo prega per me. O pregate per me. Quasi sempre. Come il Papa fa nell'Angelus della Domenica. Stessa cosa Don Bosco. Un po' il mio commento. È molto bella l'espressione che scrive Don Bosco. Avrai in me un amico. L'amicizia dice vicinanza, confidenza, conoscenza, prossimità, un legame che va oltre la formalità. Questa sua sottolineatura è un'indicazione preziosa anche per noi. La dimensione educativa e pastorale trova nell'amicizia un grembo fecondo. Questo è un passaggio chiave. L'amicizia è un grembo fecondo per far conoscere Gesù. Questo ci dice Don Bosco. Poi le parole finali. Ti sono di cuore sacerdote. Bellissimo. Una lettera che finisce così. Ti sono di cuore sacerdote. Ecco, parlano di un cuore che ama. Don Bosco è un prete di cuore. Interessante che Don Bosco spesso alla fine delle sue lettere, vi l'ho già detto, scriva prega per me, chiede ai giovani l'elemogina della preghiera. Bene, vado già alla lettera 2. La scrive a un certo Stefano Rossetti ed è in questa lettera 2 che Don Bosco usa l'espressione con paterno affetto. Amatissimo figliuolo. Anche in questo caso dice figliuolo, figlio. La lettera che mi hai scritto mi ha fatto veramente piacere. Cunessa dimostri che tu hai compreso quale sia l'animo mio verso di te. Sì, mio caro, io ti amo di tutto cuore. Allora, non so voi, ma io non è che scriverei una cosa così a qualcuno, io ti amo di tutto cuore. È un'espressione estremamente forte. Probabilmente siamo nell'Ottocento, siamo nel romanticismo, ma mi viene da pensare che Don Bosco voleva comunque esprimersi al massimo. Ha trovato l'espressione più grande che poteva dire in quell'epoca. Io personalmente non ho memoria di aver scritto qualcuno io ti amo di tutto cuore, forse alla ragazza che avevo nella mia adolescenza, ma poi da prete, invece Don Bosco osa. Osa, poi, mentre, ripeto, il linguaggio dell'epoca gli permetteva anche questo. Io ti amo di tutto cuore ed il mio amore per te tende a fare quanto posso per farti progredire nello studio e nella pietà e guidarti per la via del cielo. Rammenta, però, attenzione, rammenta, ricordati i molti avvisi che ti ho dato in varie circostanze. Va bene? Sì, ti amo di tutto cuore, però ricordati delle cose che ti ho detto. Sta allegro, ma la tua allegria sia verace come quella di una coscienza monda, libera dal peccato. Studia per diventare molto ricco, ma ricco di virtù e la più grande ricchezza è il santo timore di Dio. Fuggi i cattivi, questa cosa Don Bosco la dirà anche in altre lettere, attenzione ai cattivi compagni. Sta amico con i buoni, rimettiti nelle mani del tuo signore arciprete e segui nei consigli e tutto andrà bene. Saluto i tuoi parenti da parte mia, prega il signore per me e mentre Dio ti tiene lungi da me, lo prego di conservarti sempre suo finché sarai di nuovo con noi. Intanto che ti sono con paterno affetto, affezionatissimo sacerdote Giovanni Gio. Si firma Gio, non Giovanni, cioè Bosco Gio. Usa molto, molte volte questa abbreviazione insomma, no? bellissima, questa espressione davvero mi fa commuovere tanto, ti sono compattene a fare. Scrivo così, è una lettera che fa emmergere vari aspetti, sottolineo in particolare anche in questo caso il rapporto che Don Bosco coltiva con i ragazzi. Usa espressioni che pariano persino eccessive, come già vi dicevo, ti amo di tutto cuore. In altre lettere troveremo scritto anche in questo mio lavoro, io ti amo nel Signore. L'amore di Don Bosco non è mai però sdolcinato, stucchevole, ma sempre concreto, sempre radicato in Dio. Tant'è che Don Bosco scrive il mio amore per te tende a fare quanto posso per farti progredire nello studio e nella pietà. Cioè Don Bosco ama, sì, ma per farti progredire nello studio e nella pietà. È un amore appunto molto concreto. La preoccupazione ultima di Don Bosco è che la vita sia un progredire e un crescere in tutti i suoi aspetti per i quali Don Bosco non ha paura di richiamare realmente molti avvisi che ti ho dato. Ecco, sapeva che era importante dare continuamente delle indicazioni dei programmi di vita, dei consigli indicava dei piccoli passi da fare riguardanti lo studio, l'amicizia, la guida spirituale per il progetto di vita. Ecco, queste prime due lettere le ho intitolate così con paterno affetto, colgo molto quella che è la paternità di Don Bosco. Ho davanti un altro titoletto prepara il tuo cuore. Papa Francesco nella Christus Vivit dice in base ai dati evangelici possiamo affermare che nella sua fase giovanile Gesù si stava formando, si stava preparando a realizzare il progetto del padre preparando. Don Bosco usa la stessa parola preparare. Al giovane Giovanni Garbarino, Roma 8 aprile del 58. Amatissimo Garbarino, la tua lette la mi ha fatto piacere, il desiderio che dimostri del mio ritorno emotivo per amarti sempre più nel Signore. Intanto sta allegro, questo è un invito che Don Bosco fa spesso, sta allegro, ma pensaci bene a preparare il tuo cuore e a farne un dono al Signore. Questa è un'espressione di quelle che dovete prendervi e come dire scrivere sul muro in camera, cioè bellissima, no? Ma pensaci bene a preparare il tuo cuore a plasmarlo e a farne un dono al Signore. In che farai certamente vestendo l'abito clericale, questo lo faremo quando sarai giunto poi a Torino. Prega per questo motivo, prega e zian Dio per me, insiste di nuovo, prega per me e credimi sempre in quel che posso, tuo affezionatissimo sacerdote Bosco Gio. Allora, l'espressione che qui Don Bosco scrive al giovane Giovanni mi sembra sintetica di tutto quello che il nostro santo dirà ai giovani. Pensaci bene a preparare il tuo cuore e a farne un dono al Signore. Allora, vi invito in questa festa di Don Bosco a sentire queste parole rivolte a voi, non a Giovanni. Qui possiamo metterci il nome di Andrea, possiamo metterci il nome di Alberto, possiamo metterci il nome di Lorenzo, di Isabella e via dicendo. Sentite rivolte a voi queste parole. Pensaci bene a preparare il tuo cuore e a farne un dono al Signore. sostanzialmente per lui è ciò che conta è lasciarsi plasmare il cuore da Dio e questo dovrebbe essere il fine ultimo del nostro progetto di vita. Dobbiamo preparare il cuore innanzitutto affinché sia tutto di Dio. Siamo chiamati a seguire Gesù per servire i fratelli, cioè preparare il cuore non per noi stessi ovviamente ma per riuscire poi a servire i fratelli, a stare con lui. Ma d'oltre, il terzo tema è il cacciatore di anime. Questa espressione non è mia è di Don Bosco. Don Bosco parla di cacciatori di anime e adesso ve lo leggerò. Diva Papa Francesco il quale dice attraverso la santità dei giovani la Chiesa può rinnovare il suo ardore spirituale e il suo vigore apostolico la forza il vigore apostolico il cacciatore è uno che come dire ha un vigore colui che va a caccia ha una sua forza e il papà dice ci vuole una forza una forza apostolica. Il balsamo della santità generata dalla vita buona di tanti giovani può curare le ferite della Chiesa e del mondo di portandoci a quella pienezza dell'amore a cui sempre siamo stati chiamati. I giovani santi ci spingono a ritornare al nostro primo amore. Bene il Papa parla di vigore apostolico e a Giovanni Garino Don Bosco scrive così questa è una lettera vi dico subito molto interessante perché Don Bosco dirà una cosa ma poi dirà un ma un ma con una congiunzione versativa molto importante carissimo Garino ho ricevuto con piacere la tua lettera e godo della tua ferma volontà di farti buono per divenire un ottimo ecclesiastico dal canto mio farò tutto quello che posso ma ho bisogno anche di qualche cosa da parte tua di che cosa di una confidenza illimitata bellissima ho bisogno di una confidenza ho bisogno che tu ti fidi di me bisogno di una confidenza illimitata in tutto ciò che riguarda il bene dell'anima tua e poi dice avrei bisogno di farti cacciatore di anime ma io quando ho letto questa espressione dico bellissima cioè dice tanto secondo me di Don Bosco che pensa ai giovani come dei cacciatori non come a gente che sta chiusa in casa o come gente della generazione del pigiama a proposito di pigiama ho scoperto che sono aumentati del 47% mi hanno detto le vendite dei pigiami durante il lockdown ora noi il pigiama non è un abito salesiano punto cioè non ci si mette il pigiama va bene non è un abito nostro non so se mi so cioè non possiamo essere la generazione del pigiama ecco siamo piuttosto quelli che mettono i vestiti del cacciatore va bene i cacciatori mi ricordo sono ben attrezzati va bene appunto per andare a caccia però attenzione cosa dice avrei bisogno di farti i cacciatori degli anime ma dice per il timore che tu rimanga da altri cacciato ti propongo solo di farti modello ai tuoi compagni nel bene nel bene operare peraltro sarà sempre per te una fortuna grande quando potrai promuovere qualche bene o di impedire qualche male ai tuoi compagni amami come io ti amo nel signore prega eziandio per me eccetera cioè dice avrei bisogno di farti cacciatori di anime ma dice Don Bosco non sei all'altezza in questo momento affinché tu non rimanga da altri cacciato dice è bene che tu faccia altro cioè questo galino voleva sostanzialmente diventare prete perché voleva diventare un ottimo ecclesiastro ma Don Bosco dice fermati un attimo perché rischi in questo momento di essere tu cacciato da altri non di fare il cacciatore questo secondo me pedagogicamente è molto interessante anche per i discernimenti per le scelte che siamo chiamati a fare nella nostra vita vabbè il commento che c'è sotto in gran parte ve l'ho già detto a voce così e ve l'ho detto a voce mentre vi parlavo Don Bosco ha inteso il desiderio di far incontrare le anime con Cristo con altre parole ecco diciamo con altre parole Papa Francesco ha detto che non bisogna perdere l'attenzione per l'annunzio a coloro che stanno lontani da Cristo perché questo è il compito primo della Chiesa poco dopo tenendo presente tutto l'afflatto spirituale di Don Bosco il cacciatore di anime io penso che per Don Bosco è colui che sta in ginocchio perché se mettiamo insieme di Don Bosco tutto il desiderio di Dio che lui promoveva il cacciatore di anime certamente stava in ginocchio interessante in questa lettera il fatto che Don Bosco dica a Galino di attendere aspetta un attimo non sei pronto cioè non è pronto per questa avventura gli propone un cammino graduale la gradualità fa parte della pedagogia di Don Bosco quindi benissimo buttati e fai però un attimo che bisogna essere anche pronti per andare a cacciare altrimenti rischi di essere poi cacciato preso da altri quindi Don Bosco chiede tutto a tutti ma in base a quello che ciascuno può dare questa righezza ultima che è molto importante Don Bosco chiede tutto a tutti ma in base a quello che ciascuno può dare anche la lettera successiva è un esempio un po' di questo la scrive al giovane calzolaio Bernardo Musso va bene Musso mio carissimo ho ricevuto la tua lettera e comprendo quanto mi vuoi dire sta tranquillo io penserò a te molto probabilmente Don Bosco scrive così perché forse questo Musso non riusciva non so a dare qualche offerta a Don Bosco per rimanere ospite dove era ma tu pensa ad essere esemplare nell'adempimento dei tuoi doveri specialmente nell'impedire discorsi cattivi fra i tuoi compagni quindi il calzolaio Musso può fare questo e Don Bosco gli propone questo va bene andiamo oltre la lettera 6 al chiarico Luigi Calcagno Don Bosco scrive così carissimo Calcagno sei sempre buono io spero di sì ma non volgere indietro lo sguardo meriamo il cielo che ci attende là abbiamo un gran premio preparato bellissimo non volgere indietro cioè non tornare indietro sulle tue scelte va bene piuttosto guarda il cielo guarda questo e poi dice un'espressione molto bella che è tipica di Don Bosco lavora guadagna anime e salvami la tua e salvami la tua lavora guadagna anime e salvami la tua subietà ed obbedienza per te sono tutto scrivimi sovente anche questo è bello quindi Don Bosco invita anche a scrivere cosa che vi dirò anche io alla fine vi inviterò anche io a scrivere Dio ti benedica e ti conservi sempre nella tua santa grazia eccetera piccolo commento che qua Don Bosco non perde occasione per declinare e coinvolgere i giovani nel dami animas in questa lettera usa una delle espressioni classiche dicendo guadagna anime guadagnare anime è un'espressione bella di Don Bosco per altri modi la usa anche San Paolo c'è il guadagnare anime questo invito a Don Bosco lo ha fatto a tanti perché questo è ciò che gli sta a cuore in lui vita spirituale ed edizione pastorale se quella è missionarietà sono un tutt'uno cioè per Don Bosco non sono separati il fatto che io ho una vita spirituale e il fatto che divento un apostolo che faccio un servizio che come dire è quello che diceva anche Papa Francesco discepoli e missionari Don Bosco lo mette insieme cioè un discepolo è anche missionario è un missionario è anche discepolo queste due cose sono proprio agganciate insieme il 19 marzo del 76 in una conferenza tenuta per giovani nella notte vi ho anche riportato che la conferenza Don Bosco la fece a oltre 203 persone Don Bosco scrisse così la messa da farsi consiste nella salvezza delle anime che tutte le anime devono essere raccolte e portate nel granaio del Signore o sì che desidererei di vedervi tutti tutti slanciati a lavorare come altrettanti apostoli bellissimo tutti slanciati a lavorare come altrettanti apostoli questo può essere un titolo uno slogan da festa dei giovani proprio tutti slanciati a lavorare come altrettanti apostoli un'espressione molto bella a questo tendono tutti i miei pensieri tutte le mie cure tutte le mie le mie fatiche interessante deciso iniziale della lettera non volgere indietro lo sguardo non volge indietro lo sguardo vai avanti guarda sempre avanti è un richiamo alla fideltà alla tenacia alla fortezza alla decisione presa al per sempre al per sempre dell'amore altro tema è il tema 4 un bel un bel progetto dice Papa Francesco la giovinezza è marcata da sogni che vanno prendendo corpo da relazioni che acquistano sempre più consistenza ed equilibrio da tentativi e sperimentazioni da scelte che costruiscono gradualmente un progetto di vita quindi Papa parla di progetto di vita la stessa parola progetto la usa Don Bosco proprio la stessa parola e scrive a Emanuele Fassati caro Emanuele mentre tu godi la campagna col buon Stanislao io vengo in compagnia di Mamanna a farti una visita con questo biglietto che sono in dovere di scriverti quindi probabilmente questo Emanuele sta lavorando in campagna insomma col buon Stanislao sarà stato un parente o un amico poi dice Don Bosco mio scopo è di farti un bel progetto bellissima sta cosa lo scopo alla fine è di una direzione spirituale lo scopo di un confronto con qualcuno lo scopo anche di un cammino formativo è quello di riuscire ad avere un progetto un progetto di vita il Papa parla di progetto di vita ecco mi auguro che tutti voi abbiate fatto o farete un progetto anche di vita va bene per la propria per la propria esistenza l'età allo studio ecco salto qui alcune righe a un certo punto dice ma io vorrei che cominciassi fin d'ora preparati e perciò essere in modo particolare esemplare nel praticare ed ha alcune indicazioni molto concrete per cominciare a lavorare su questo progetto di vita poi qui di fatto lui lo applica molto al fatto della prima Santa Comunione comunque dice così obbedienza esatta a tuoi genitori e ad altri tuoi superiori senza mai fare opposizione a qualsiasi comando il tema dell'obbedienza va bene questo è un tema che ha un mostro sta al cuore punto 2 puntualità allora se vedete non è che Don Bosco scrive lettere così dei buoni pensieri dice punto 1 questo punto 2 questo punto 3 questo i punti non li ho messi io li ha messi Don Bosco va bene cioè è molto anche preciso quindi punto 2 puntualità nell'adempimento dei tuoi doveri specialmente di quelli di scuola senza mai farti sgridare per adempierli probabilmente se dice così si vede che questo questo che si chiama Emanuele Fassati ogni tanto si faceva sgridare insomma per cui Don Bosco lo richiamo un attimo a questo e dice puntualità fai bene il tuo dovere insomma terzo fare grande stima di tutte le cose di devozione il tema della della preghiera perciò e se dico che cosa dice perciò fare bene il segno della Santa Croce a me mi è colpito questa cosa perché è estremamente concreto Don Bosco cioè non è che semplicemente che abbia detto mi raccomando di una preghiera no ha detto fai bene il segno della Santa Croce poi dice prega ginocchioni cioè prega in ginocchio con l'atteggiamento composto assistere con esemplarietà alle cose di chiesa ecco le indicazioni che Don Bosco dà quindi sono molto precise fai bene il segno di croce incomincia ad alcune cose basilari si vede che questo Emanuele comunque accogliamo che aveva bisogno di alcune indicazioni molto concrete e poi dice avrei molto piacere che mi facessi una risposta intorno alle proposte che ti ho fatto vi prego di salutare a Zeglia e Stanislao da parte mia state tutti allegri nel Signore Dio vi benedica e la lettera poi conclude e niente nelle lettere ai giovani non mancano mai i consigli spirituali ma l'intenzionalità di Don Bosco è che questi siano incastronati all'interno di un progetto di vita che comprende tutti gli aspetti le parole mio scopo e farti un bel progetto mostrano un educatore che non vuole lasciare che il caso faccia da regista le indicazioni di Don Bosco sono pratiche concrete riguardano vari aspetti appunto l'obbedienza lo zelo per il proprio dovere la diligenza nella preghiera non solo Don Bosco scrive anche avrei molto piacere che mi facesse una risposta intorno alle proposte che ti ho fatto cioè della serie Don Bosco dice ti ho fatto delle proposte fammi sapere come va è l'aspetto della verifica cioè dobbiamo verificare che una volta data un'indicazione questa effettivamente venga ecco l'aspetto della verifica per noi è importante l'esame di coscienza alla fine non è altro che una verifica di alcuni propositi che mi sono presi scrive anche a Gregorio Cavalchini Garofoli il primo giugno del 66 e scrive così carissimo Gregorio con questa interessante così per la strategia che Don Bosco usa ho ricevuto con piacere la tua lettera e ho dato le tue notizie ai giovani che fecero parte alla carovana di Tortona ne ebbero vero piacere e danno a me il piacevole incarico di ringraziarti e salutarti certamente io vorrei trattenermi alquanto a parlare teco ma le cose che vorrei dirti non si possono confidare nella carta dice alcune cose che voglio dirti non posso scriverle sono così confidenziali che voglio parlare in voce se ti piace di farmi poi una visita nelle prossime vacanze io ti dirò quanto vorrei scriverti e attenzione adesso cosa scrive Don Bosco come amico dell'anima tua bellissima definizione Don Bosco si definisce un amico dell'anima tua bello come amico dell'anima tua non posso a meno che darti alcuni ricordi fondamentali sono le tre F anche io quando l'ho letta si d'accordo con le tre F che cosa si inventa Don Bosco qua cioè si trovano anche delle strategie se volete affinché uno possa memorizzare più facilmente prima F fuga dell'ozio occupare bene il tempo se non stai a perdere tempo fuggi dall'ozio seconda F fuga dei compagni che fanno cattivi discorsi o danno cattivi consigli terza F frequenta la confessione comunione con fervore e frutto infine ti prego di salutare i tuoi due fratelli Emanuele Callori e gli altri piemontesi di Costà tu rabbisassi di mia conoscenza Dio ti benedica e ti conservi nella sua santa grazia prega per me vi dicevo che lo dice sempre che ti sono affezionatissimo nel Signore Sacerdote Bosco Gio non leggo il mio commento perché sostanzialmente l'ho già commentato la lettera così leggendola comunque interessante questo è le tre F troveremo una delle ultime lettere invece le tre S si vede che Don Bosco piaceva fare un po' questi giochetti con le parole e con le lettere bene ci sono alcune lettere scritte a più giovani leggiamo la lettera 9 all'inizio ho messo le citazioni di Papa Francesco dell'inizio della Christus Vivit Cristo vive non la leggo perché l'avevo letta prima nella preghiera iniziale e qua scrive ai giovani dell'oratorio quindi è una lettera rivolta a più persone a più giovani ed è a mio avviso interessante molto interessante giovani miei figliuoli carissimi la grazia di nostro Signore Gesù Cristo sia con noi sono pochi giorni che vivo separato da voi o miei amati figliuoli bellissimo amati figliuoli e mi sembra essere già scorsi più mesi voi siete veramente la mia delizia e la mia consolazione e mi mancano l'una e l'altra di queste due cose quando sono da voi lontano donna Lasonatti mi ha partecipato che voi avete pregato per me ve ne ringrazio io pure ogni mattina nella Santa Messa ho sempre in modo particolare raccomandato al Signore l'anima vostra debbo però dirvi che la maggior parte del tempo l'ho passato con voi osservando in particolare in generale quanto andate facendo e pensando e poi dice delle cose in particolare di alcune cose che purtroppo ce ne sono delle gravi parlerò poi a ciascuno secondo bisogno appena giunto a casa della serie ho saputo che qualcuno di voi all'oratorio ne è combinata qualcuna va bene e di questo ci vedremo dopo ok cioè vuol dire questo poi ci incontreremo e ve ne parlerò personalmente di quelle cose che sono andate riguardo dice le cose in generale comunque sia ne sono assai contento ed avete molti motivi di esserlo anche voi a vi però una cosa di grande importanza da rimediare e anche qui diventa estremamente concreto Don Bosco ed è il modo troppo accelerato con cui tra di voi si recitano le preghiere comuni e qui richiama sul fatto di di come si prega e richiamo poi su questo e dice se volete fare a me cosa graditissima e nel tempo stesso piacevole al Signore ed utile alle anime vostre studiate di essere regolati nel pregare distaccando una dall'altra le parole e pronunciando compiute le consonanti e le sillabe che le compongono mi sembra quasi eccessivo Don Bosco qui però è un educatore è uno che educa vuole insegnare a pregare Don Bosco sostanzialmente dice la preghiera non va sbiascicata non deve capitare come a me capita qualche volta quando vado in qualche comunità salesiana che invece di avere due cori uno a destra una a sinistra se i confratelli sono venti ci sono venti cori capite invece no ci vuole un po' di ordine il pregare insieme va bene questo è molto prezioso dice pronunciando compiute le consonanti e le sillabe che le parole compongono e poi dice eccovi giovani amati ma l'aveva già detto prima questa cosa e la ripete adesso giovani amati altra espressione molto bella la cosa che vi propongo è che al dentemente desidererei di vedere effettuata il mio arrivo di casa di cui a tre giorni sarò di nuovo tra di voi e con l'aiuto del Signore spero di potervi raccontare molte cose che ho vedute lette e udite il Signore altra espressione molto bella adesso il Signore Dio doni a tutti voi la santità e grazia e ci aiuti a formare un cuor solo e un'anima sola bellissimo il Signore ci aiuti a formare un cuor solo e un'anima sola pensate a questa espressione applicata alla nostra famiglia applicata alla comunità applicata all'oratorio applicata alla scuola in cui siamo è molto e molto bella vado al post scrittum che interessante post scrittum vorrei ancora scrivere una lettera a Turchi a Rigamonti a Parrucati Placido a Bagnassacco a Stassano e a Cugnolo ma mi manca il tempo parlerò poi verbalmente mi ha colpito che si ricorda di tutti quelli a cui non ha scritto una lettera va bene io già faccio fatica a ricordarmi cioè di rispondere ai messaggi Don Bosco qui si ricorda anche delle persone va bene a cui non ha non ha ancora scritto e le ricorda per nome questo è molto bello cioè Don Bosco ci conosce e ti conosce per me ecco direi questo su questa lettera che tutto educa questa puntualità nella preghiera questo richiamo molto concreto dice che tutto educa ancora un'altra lettera mandata a tutti la 10 ai giovani del collegio di Lanzo ma questa siccome vedo che il tempo passa un attimo questa la lascio magari alla vostra lettura è una lettera nella quale Don Bosco parla di molestia e di sobrietà ecco ma la lascio la lascio andiamo direttamente al tema del discendimento vocazionale e Papa Francesco dice così per realizzare la propria vocazione è necessario sviluppare far gemogliare e coltivare tutto ciò che si è non si tratta di inventarsi di crearsi se stessi dal nulla ma di scoprirsi alla luce di Dio e far fiorire il proprio essere bella questa espressione del Papa dobbiamo nel discendimento vocazionale far fiorire il proprio essere c'ho l'erre moscia non riesce molto bene questo a fiorire ma vabbè il Papa Francesco no Don Bosco scrive così tre letterine ho scoperto che scriveva anche alle ragazze questo non lo sapevo pensavo che scrivesse solo ai ragazzi invece ho scoperto che era attento anche alle ragazze per cui scrive la titola la letta è intitolata così alla signorina Maria Marietti di Milano va bene immagino questa signorina Maria Marietti di Milano una milanese insomma a cui Don Bosco scrive nel 72 sta cosa che Don Bosco era attento alle ragazze mi ha un po' colpito perché pensavo invece che fosse attento solo ai ragazzi invece perché ce n'è un'altra poi dopo scritta una certa Anna Pezzetta va bene sempre sul discorso vocazionale comunque pregiatissima signorina Maria Marietti che poi Don Bosco diceva in maniera molto elegante poi è stata una ragazza insomma e si dà molto pensiero per la scelta dello Stato e fa bene fa bene di essere preoccupata per la sua vocazione dice Don Bosco perciò che da questa decisione può dipendere la felicità di questa vita e quella del paradiso cioè c'è in ballo qualcosa di molto grande io dunque pregherò Dio che la illumini e disponga quanto è bene per la sua maggior gloria se poi vuole accertarsi di riuscire bene ecco quello che ci insegna San Paolo e anche qui tre punti molto concreti che Don Bosco indica primo procurate con buone intenzioni procurate che con buone opere rendiate certa la vostra vocazione e la scelta del vostro Stato cioè fai delle buone opere fai il bene fai un servizio vai sporcati le mani insomma attraverso questo è un elemento per fare il discernimento vocazionale secondo la preghiera la frequente comunione e la ritiratezza ne sono le mani la vita interiore quindi sporcarsi le mani darsi da fare secondo punto dice Don Bosco per capire la vocazione la vita interiore aver cura della tua vita interiore terzo se però Dio la inspira a dare un calcio al mondo bella dare un calcio al mondo non ne sia contraria e ciò segue letteralmente il parere del direttore spirituale quindi Don Bosco dà tre indicazioni primo ripeto è darti da fare ok l'attenzione fratelli secondo la vita interiore il terzo il direttore spirituale vado alla lettera 12 va bene mandata agli alunni della quarta e quinta ginnasiale di Borgo San Martino quarta e quinta ginnasiale vuol dire oggi prima e seconda superiore anche qua vado un po' veloce su questa miei cari figli prima ad ora avrei desiderato di rispondere ad alcune letterine scrittimi da vostro professore da parecchi di voi non potendo ciò fare a ciascuno in particolare scrivo una lettera a tutti dicendo posso scrivere siete in tanti facendo un'unica lettera per tutti riservandomi però di parlare a ciascuno privatamente nella festa di San Luigi sta scrivendo ragazzi in questo caso un gruppo di ragazzi ritenete dunque che in questo mondo gli uomini devono camminare per la via del cielo in due stati Don Bosco fa un discorso vocazionale dice ragazzi qua dovete scegliere sono due le possibilità o diventate preti o rimanete laici l'ecclesiastico il prete il secolare è laico per lo stato secolare ciascuno deve scegliere quegli studi quegli impegni quelle professioni che gli permettono l'adempimento dei doveri del buon cristiano e che sono di gradimento ai propri genitori uno dice se la tua strada è quella di diventare un buon padre di famiglia che trova un lavoro dice devi trovare qual è il tuo impiego qual è la tua professione e Don Bosco fa un invito a questo lui invece dice per lo stato ecclesiastico poi si devono seguire le norme stabilite dal nostro divino salvatore rinunziare alle agiatezze alla gloria del mondo ai codimenti della terra per darsi al servizio di Dio interessante quindi in questa lettera Don Bosco presenta parlando dei ragazzi va bene queste due strade per fare questa scelta ciascuno ascolti bene il parere del proprio confessore e poi attenzione cosa dice adesso e poi senza badare né a superiori né ad inferiori né a parenti né ad amici risolva quello che gli facilita la strada della salvezza e lo console in punto di morte cioè fai le tue scelte facendo in modo che in punto di morte tu possa essere contento delle scelte che hai fatto questo dice Don Bosco per me è tanto grossa questa cosa qui è tanto bella cioè fai quelle scelte per le quali potrai non pentirti in punto di morte va bene cioè in punto di morte dobbiamo essere contenti della nostra vita di quello che abbiamo combinato questo dice Don Bosco e poi dopo continua dicendo la grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia sempre con voi e vi concede al prezioso dono della perseveranza nel bene cioè non basta fare non basta che tu fai la scelta poi in quella scelta che fai che tu sia laico che tu sia sacerdote poi devi essere perseverante e anche qui la lettera si conclude dicendo pregate anche per me va bene bene lascio a voi i commenti perché preferisco far leggere Don Bosco leggo questa lettera ad Anna Pelazza così si chiama e anche qui pregettissima giovane Pelazza Annetta l'obbedienza è per voi e comincia subito con il punto uno cioè subito neanche lì subito concreto punto uno l'obbedienza è per voi la via sicuramente al cielo secondo per mettere in esecuzione il pensiero che da qualche tempo vi occupa la mente questo non me lo avete mai detto dice Don Bosco ma parmi di vederlo nella vostra mente e farvi religiosa dice non l'hai mai detto però mi sembra che insomma ti stai confrontando con questa vocazione mettetevi interamente nelle mani del vostro santo superiore terzo quando avrete bisogno di qualche cosa andatela a domandare a Gesù quindi il tema della preghiera ci conclude la lettera dicendo Dio vi benedica di concedere a tutti di camminare per la via della salvezza dell'anima leggo il mio commento sul tema dell'anima la salvezza dell'anima rimane rimarrà sempre un chiodo fisso di Don Bosco a tal punto che questa è la chiave per dirimere le questioni vocazionali cioè lui dice la salvezza dell'anima fai quelle scelte che ti aiutano a salvarti l'anima nella vita si tratta di fare quelle scelte che sono per la salvezza dell'anima dovremmo forse recuperare oggi la parola anima e liberarla da significati semplicistici o da quei riduzionismi che la considerano poco più che una emozione e invece lo spirito che gemme in noi è presenza di Dio è un pezzo di cielo è respiro di Dio nell'uomo il cammino vocazionale è vero se fa respirare l'anima se tutta la tua vita respira nella verità nella libertà cioè quali sono le scelte vere da fare nella vita ma sono quelle che ti rendono libero va bene sono quelle che aumentano la tua capacità di amare proprio è questo che che Domosco ci sta dicendo altro punto sulle amicizie ma magari le lascio a voi queste perché il tempo sta scadendo sono diciamo che Domosco sull'amicizia in maniera esplicita non ha scritto tantissimo va bene è preoccupato di dire come il giovane Ottavio Bosco di Ruffino di dire questo caro Ottavio coraggio sta attento a creativi compagni e fuggili e cerca i buoni e imitali cioè Domosco intuisce che l'amicizia è molto delicata è un grandissimo dono ma può essere come dire deviante anche per cui dice attento a creativi compagni cerca quelli buoni imita imita e anche qui al giovane Bernardo Musso dice di coinvolgere con i suoi amici dice che mio caro Bernardo cercami dunque i tuoi amici per cui tuoi amici quelli che desiderano di aiutarmi e conducili ogni giorno all'altare di Gesù cioè Don Bosco dice mi raccomando coinvolgi gli amici crea una buona compagnia ecco ed è quello che poi dico nel commento che lascio alla vostra lettura sullo studio è proprio dovere qui Don Bosco insiste molto anche su questo tema va bene vado direttamente però alla lettera B17 lascio la precedente a voi gli dice così caro Emanuele Fassati gli aveva già scritto prima che va bene era un altro anno nella cara tua lettera che ti sei piaciuto di inviarmi domandavi che avessi pregato perché la Santa Vergine ti concedesse buona volontà ed energia di studiare dice l'ho fatto volentieri e ben di cuore in tutti i mesi di Maria non so peraltro se tu sei stato esaudito dice io ho pregato per te però fammi sapere come è andato a finire poi dopo col tuo studio amerei molto saperlo sebbene io abbia motivo di credere affermativamente papà mamma e Azelia stanno bene spesso li vedo alle 5 e mezzo di sera ed il nostro discorso in gran parte è sempre di te cioè dice io mi trovo con tua mamma e Azelia è stata la classica zia insomma che è vicina e ci troviamo a parlare di te gli altri sono sempre inquieti per timore che tu non vada avanti nello studio gli dice carissimo Emanuele qui siamo alcuni preoccupati per te perché non stai studiando abbastanza e così aggiunga loro qualche dispiacere ai molti che tu già sai già avere avuto quest'anno io li consolo sempre dice Don Bosco appoggiato sull'ingegno e la buona volontà e promesse di Emanuele io li consolo loro dicono ma no Emanuele mi ha promesso che studierà mi sbaglierò dice Don Bosco e credo di no ancora due mesi e poi che bella festa se i tuoi esami riusciranno bene dunque caro Emanuele io continuerò a comandarti al Signore però tu fa una sforzo fatica diligenza sommessione obbedienza tutto il suo movimento purché riescano gli esami insomma Don Bosco è preoccupato di questo ragazzo si vede che con gli esami faceva un po' di fatica va bene e anche a lui comunque Don Bosco dice prega comunque per me la lettera 18 andiamo verso la conclusione la leggo direttamente sul tema dello stile scrive a un giovane non identificato ma scrive una cosa particolare che mi ha colpito amico carissimo giovedì prossimo alle nove la mattina spero di passare a per reaglie mongaleno e passare alcune ore teco in piacevole ricreazione dice vengo a trovarti vengo a trovarti per stare un po' con te in piacevole ricreazione dice mi faresti poi la cosa più cara se a pranzo non ci fosse altro apprestamento se non il tuo ordinario cioè della serie non sta a prepararmi chissà quale pranzo a me basta un panino insomma va bene cioè Don Bosco si vede che ogni volta preparavano a Don Bosco chissà che cosa a noi dice sta tranquillo è una lettera molto semplice che fa vedere come Don Bosco si contentava di poco e dice ma basta gli apprestamenti normali di tavola come fate per tutti voi la lettera 19 è molto interessante sullo stile ve la leggo e ve la commento perché è molto bella che cosa capita che Don Bosco chiede scusa per il ritardo nell'inviare un fascicolo da tradurre cioè questo giovane Cesare Callori gli traduceva dei fascicoli delle letture cattoliche capita che Don Bosco si dimentica va bene però tanto da fare si dimentica di mandare libretto allora chiede scusa ma guardate come chiede scusa carissimo signor Cesare che comunque era un giovane questa volta non è più Cesare ma è Don Bosco che confessa la colpa gira di qua trotta di là e intanto non ho compiuto il mio dovere con l'inviare il libro che il nostro Cesare era si offerto di tradurre per le letture cattoliche bellissimo come Don Bosco lo scrive si prende quasi in giro gira di qua trotta di là intanto non ho compiuto il mio dovere ora aggiustiamo le cose in famiglia dice Don Bosco aggiustiamo città di noi un fascicolo per lei l'altro per la Domigella cioè diceva vai dai te ne regalo uno a te e ne regalo uno alla tua Domigella Gloria e siccome io fu in ritardo nella spedizione così ella giusterà o meglio compenserà il tempo perduto con una diligenza solicitudine speciale nell'esecuzione del lavoro cioè Don Bosco se leggete bene sta continuando un pochino a prendersi e a prendere anche in giro che disinvoltura ha Don Bosco nel comandare è Don Bosco che si prende in giro bellissimo fortuna che ha a che fare con gente docile ed obbediente altrimenti mi lascerebbe solo per cantare e portare la croce mentre peraltro mi confesso colpevole vorrei comandarle dirò meglio vorrei raccomandarle due cose di cui abbiamo già qualche volta trattato cioè Don Bosco alla fine però giunge dove vuole lui attenzione nei vari compartimenti del suo tempo stabilisca di confessarsi ogni 15 giorni bene per cui sì mi sono dimenticato di mandarti il libretto adatta dura però comunque sia tu confessati ogni 15 giorni o una volta al mese non lo metta mai senza fare un po' di lettura spirituale ma zitto non facciamo la predica bene terminiamo non voglio andare ora insomma hai capito quello che voglio dirti dice Don Bosco non voglio stare qui a farti una cosa bene vado all'ultima lettera e con questa concludiamo poi vi lascio anche un esercizio pratico Don Massimo mi concede due minuti ancora per chiudere al giovane Vittorio Cesconi lettera del 73 caro Victor con vero piacere ho ricevuto la tua lettera che mi dà notizie della sanità tua e di quella di tua madre vado assai che tu si viene ristabilito e prego Dio che ti conceda tre S tutti maiuscoli allora prima le tre F adesso le tre S va bene sanità santità sapienza non mancherò di pregare Dio perché conservi lungamente i giorni preziosi della vita di mamanna cioè prego per la mamma mi tornarono assai graditi i tuoi auguri e mi raccomando alla augusta regina del cielo che li voglia centuplicare sopra di te tu mi mandi 26 franchi per i miei poveri fanciulli ottimo pensiero ottimo pensiero mi hai fatto un'offerta grazie cioè ti ringrazio un ottimo pensiero Dio benedice la carità specialmente dei fanciulli mio caro Victor Dio ti benedica ti conceda ogni bene prega anche per me che di cuore ti sarò sempre in Gesù Cristo affezionatissimo amico sacerdote Joe Bosco ecco a Don Bosco stanno a cuore tutte le dimissioni della persona la salute l'intelligenza la vita spirituale ovvero quel cammino di sintesi che porta alla santità da notare che anche le offerte per Don Bosco sono preziose un ottimo pensiero ecco si sa che Saldesiani insomma sono sempre un po' alla ricerca di questi ottimi pensieri per portare avanti insomma le attività che a loro sono affidate dalla provvidenza e alla fine vi ridico se avete visto in quasi tutte le lettere Don Bosco ha scritto prega per me a me io vi dico che questa cosa l'ho scoperta facendo questo lavoro però mi ha colpito molto questo e forse mi sono detto che Don Bosco davvero chiedeva ai giovani l'elemosina della preghiera ecco queste alcune lettere che ho scelto per voi va bene ma ce ne sarebbero tante altre poi è anche vero che un pochino alcuni temi alcuni temi ritorni io vi lascerei un esercizio pratico va bene se avete il piacere di farlo che vi lascio lì che vi ho scritto lì in fondo prova a pensare che queste lettere di Don Bosco siano indirizzate a te ok siano indirizzate a te si tratta ora di rispondere perché non scrivi una tua lettera a Don Bosco o a chi in questo momento è Don Bosco nella tua vita scrivere lettere è un esercizio di scavo e scendere in profondità e dare un nome a quello che vivi è uno dei luoghi in cui il sangue della vita può incontrarsi con i gemiti dell'anima e questo lo scrivere lettere non siamo più molto abituati oggi abbiamo piuttosto messaggi brevi diamo l'SMS Whatsapp abbiamo le mail che non sono proprio una lettera lo scrivere lettere io vi invito magari a scrivere lettere a qualche persona perché è un genere letterario che ci aiuta a scavare dentro perché la lettera in qualche modo ci interroga perché è un dialogo è una confessione a volte che uno fa a qualcun altro ecco Don Bosco ha scritto lettere proprio perché le lettere rivelano la persona io penso che attraverso le sue lettere possiamo davvero scoprire molto molto di Don Bosco ecco vi ringrazio ho fatto questa scelta di queste lettere perché sono sicuro che la maggior parte di queste lettere non erano conosciute ringrazio non so se è presente ma ringrazio il confratello Marco Mazzorana che ho mandato a studiare a Roma spiritualità salesiana proprio per aiutarmi a fare questo lavoro insomma per cui mi ha dato una mano a procurare un po' di lettere di Don Bosco e mi ha scovato negli archivi giù a Roma ecco dove sono dove sono contenute ce ne sarebbero ripeto tante altre e meriterebbe così fare anche altri incontri sulle lettere di Don Bosco bene grazie a tutti mi raccomando il pigiama non è un vestito salesiano va bene assolutamente non ce n'è bisogno grazie